Quella che vediamo alle spalle è la rotatoria di via Moriconi, un luogo molto molto pericoloso della viabilità di Rosciano, tra Rosciano e Fano. Una battaglia che i cittadini di Rosciano hanno intrapreso da tempo e che Stefano Pollegioni dell'Udc ha guidato in prima fila. A che punto siamo Stefano di questa situazione? Io credevo che avremmo potuto chiudere il cerchio dopo l'interrogazione in Consiglio Comunale e il tavolo tecnico con l'assessore Brunori. Ho ottenuto risposta dal Comune e mi sembra una risposta abbastanza riduttiva. Dovremmo capire cosa intendono fare entro il 31 luglio del 2023, quindi entro fine mese, perché mi sembra, ho visto che parlano solo di dissuasori, quindi molto poco in via Moriconi in arrivo sulla rotatoria e quindi dovremmo insieme in Consiglio Comunale, insieme alla consigliera Lucia Tarsi che gentilmente ha fatto l'interrogazione, chiarire esattamente che tipo di opere intendono fare su quella strada per togliere un pericolo reale ed esistente. Che cosa avete chiesto? Mettere dei dissuasori a terra, commettendo anche delle segnaletiche luminose, come sono in tante strade, che indicano anche il tipo di velocità che un'autovettura porta. Abbiamo chiesto di mettere anche un autovelox. Quindi ora la battaglia continua? Io voglio augurarmi che continui e duri poco e si arrivi presto a una soluzione, perché le soluzioni ci sono, quindi io spero che ci sia anche la volontà. Quella strada è molto pericolosa e tra l'altro è un muro che impedisce non solo i cittadini di Grosciano, ma diciamo tutta la parte dell'abitato del comune di Fano che va verso Monte a poter venire in città, perché non ci sono attraversamenti, non ci sono percorsi pedonali, non ci sono percorsi ciclabili e gli incidenti testimoniano il pericolo di questa strada. Ma questo non è l'unico pericolo che incombe sui residenti di Grosciano. Ce ne sono altri che rendono difficile la percorrenza sulla Flaminia. Sì, è una situazione che segnaliamo già da anni, la Flaminia lo sappiamo è un punto molto pericoloso, sono avvenuti anche degli incidenti mortali, abbiamo fatto varie interrogazioni e in questo momento si stanno facendo dei lavori per un ampliamento del marciapiede per mettere in sicurezza i pedoni, ma la promessa fatta nel 2021 di una rotatoria che avrebbe avuto l'effetto di rallentare il traffico, purtroppo è rimasta una promessa. Questa rotatoria rimane solo sulla carta e i cittadini di Grosciano si dovranno accontentare soltanto di una messa in sicurezza, soltanto dei marciapiedi e non ci basta. La rotatoria è assolutamente un elemento fondamentale per il rallentamento del traffico e quindi il Comune, la provincia devono assolutamente dirci in breve tempo quando faranno questo nuovo lavoro.